Un grosso pitone, quindi un pitone gigante, è stato trovato in Florida. Negli Stati Uniti d'America si tratta di un pitone birmano, 5 metri e 79 circa, è il più grande, ma è osservato finatore, finatura, è stato il buon Jake Valery, un ragazzo di 22 anni di età di Miami a scopare il grosso animale in questione. Il ragazzo ha messo infatti un video su Instagram in cui si vede un cacciatore che tira il pitone per la coda nel cielo della strada. Ecco, diciamo che la scoperta è stata miracolosa, mirabilante, insomma è stata una scoperta incredibile che ha lasciato quasi tutti veramente colpiti in maniera diretta, completa, quindi totale. Nel video, ripeto, infatti si vede questo cacciatore direttante che tira il pitone per la coda nel cielo della strada, poi lo sottomette attraverso l'utilizzo di un altro uomo e ce la fanno. Bene, insomma, il pitone spaventa anche se li tratta sempre di un animale, va bene? Da narratore italiano è tutto, iscrivetevi se vi va a commentare. Ciao a tutti.